Jacopo, un gol importantissimo che vale 3 punti e sicuramente sarei soddisfatto. Sì, sì, sono molto soddisfatto perché abbiamo portato casi 3 punti e comunque dal girone di ritorno ogni partita è una finale e siamo tutti molto contenti di questi tre punti. Sì, sei andato vicino alla rete in più di un'occasione, altre volte sei stato trattenuto forse regolarmente e al momento della battuta davvero un'ottima prestazione come il resto quella della squadra. Sì, se ci fosse stato il VAR oggi mi avrebbero fischiato 2-3 rigori, però è andata bene così quindi ci portiamo a casa questi tre punti e domenica e lunedì c'è già un'altra partita molto importante. Ma appunto si gioca ogni tre giorni, l'importante è stare sempre sul pezzo? Certo, come hai detto tu stiamo giocando ogni tre giorni, abbiamo una rosa stra-completa, con chi gioca può giocare chiunque che sicuramente fa bene e niente, dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il 100% a tutti. Per chiudere hai una dedica particolare per questo VAR? A mio padre, voglio dedicare il VAR a mio padre. Grazie. 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 Grazie.